La macelleria AP di Angelo Passalacqua è lieta di presentarvi, oltre alle sue specialità tradizionali, Matur Meat, l'unico impianto brevettato di frollatura attualmente sul mercato, il primo della costa ionica calabrese. Matur Meat garantisce una perfetta frollatura, carni tenere e sicure, ricche di sapore, con una percezione sensoriale gradevole da parte del consumatore. Carne tenera al tatto, disponibile alla degustazione anche a crudo. Alla base c'è la scelta di carni pregiate e di qualità, provenienti da tutto il mondo. I vantaggi di Matur Meat? Le carni frollate subiscono un incremento del 30% dei valori nutrizionali, con aumento di ferro, vitamina B12, B6, proteine e fosforo. Il risultato è eccezionale. Carni frollate, gustose, tenere. Bontà che nasce dall'incontro fra tradizione, innovazione e sicurezza. Tutto questo in un'unica fetta di carne frollata. Macelleria AP di Angelo Passalacqua. Viale della Libertà 1 a Melito Porto Salvo. Telefono 347 058 50 59.